Buon pomeriggio ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come promesso, andremo a vedere analisi di coppie cross da voi richieste. Come al solito, andrò a guardare il sentiment di mercato, perché io faccio un'analisi, però mi piace vedere quello che gli altri fanno o non fanno, soprattutto perché queste sono analisi e quindi è bello appunto avere un confronto. E come al solito, se volete provare anche voi il sentiment di mercato, potete richiedere una demo gratuita presso il sito del broker www.kimuratrading.com Detto ciò, possiamo cominciare. Oggi ci occuperemo di sterlina dollaro, del gold e di euro sterlina. Le richieste che mi sono state fatte sono un po', però io ho cercato quelle più richieste, diciamo la maggioranza, e quindi sono venute fuori queste tre. Prima di tutto vorrei cominciare dal gold. Parto dal gold perché mi tocca personalmente e io ce l'ho in watchlist questa settimana. In realtà anche euro sterlina, però già fatto e finito il trade su euro sterlina, adesso andremo a vedere tutto. Partiamo dal gold che invece potrebbe ancora dare qualche occasione. Allora, come sempre partiamo dal grafico settimanale. Quello che voglio fare io adesso, siccome ne abbiamo tre da vedere ed è un po' lunga, non arriverò fino al time frame orario, voglio soltanto andare a fare delle considerazioni per poi far sì che ognuno di noi, a seconda della propria strategia, possa intraprendere la propria strada. Quindi così sembra un po' tipo... Eh? Adesso vi faccio vedere che cosa intendo. Allora, partiamo subito appunto dal gold, dal grafico settimanale. Quindi come al solito voglio avere una visione di lungo periodo. Possiamo vedere che non è che ci sia chissà che cosa, da maggio del... cos'è? Del 2013 stiamo scendendo. Però io mi concentrerei principalmente in quest'ultima zona qua. Quello che vedo molto interessante è stato questo impulso ribassista e questa che fino a poche settimane fa, siccome ci trovavano da queste parti, era una correzione e che ora come ora si sta avvicinando in zona massimi precedenti. Che cosa sta succedendo però sul gold? Perché è bene, secondo me, capire esattamente cosa sta succedendo da queste parti. Quindi per quanto mi riguarda, siccome non c'è una situazione ben definita, quello che io vedo è che dopo questa salita qua, che vediamo appunto continuare per bene, soprattutto rispettare una trendline, la trendline è stata rotta, quindi da qui vediamo anche la rottura di questi minimi, che per me va a significare un'inversione, quindi un'invalidazione di questo rialzo, veniamo giù e poi c'è stata questa che sembrava essere appunto una... torniamo... una correzione. Fino a poche settimane fa rispettavamo perfettamente dei livelli di fibonacci, ora come ora devo dire che non è proprio bellissima, infatti ci stiamo di nuovo dirigendo in zona massimi. Allora, quello che voglio fare in questo momento è andare, prima di tutto, a tracciarmi la resistenza dei massimi, che è questa qua, che possiamo andare a fare in rosso, perfetto. Così abbiamo ben chiaro dove si trovano appunto i massimi. Ora, non vado più a tracciare i fibonacci perché ormai mi sembra abbastanza inutile, del 50% possiamo ben vedere che l'abbiamo superato e anche da un bel po'. Quello che voglio fare però è inserire i shimoku, perché come molti di voi sapranno io utilizzo i shimoku per le mie analisi. Inserendo i shimoku vedo subito che si è creata una situazione di disequilibrio. Cosa vuol dire? Che è vero, per i soliti standard di shimoku abbiamo la lagging fuori dalla kumo, abbiamo i prezzi che hanno rotto la kumo, però vi invito sempre a ricordare che i shimoku kinko yo significa equilibrio a colpo d'occhio. E guardando un grafico di questo tipo possiamo capire che di equilibrio ce n'è ben poco, perché la kumo è da queste parti, la kijon è da queste parti, la tenkana è da queste parti, e i prezzi invece sono da queste parti. Questo significa che qua si è creata una bella distanza. Quindi, indipendentemente da quello che sta succedendo sul grafico settimanale, indipendentemente da quello che è il trend di lungo periodo, che può essere rialzista, ribassista e basta, perché questi possono essere ovviamente anche laterale, quello che vorrei fare io è vedere un ritorno dei prezzi dalle parti dell'equilibrio. Qual è l'equilibrio? Non c'è un livello, un numero ben preciso per definire equilibrio, semplicemente equilibrio si va a creare quando tutto torna ad essere in armonia. Prezzi e medie in armonia, altrimenti sappiamo che quando i prezzi sono troppo lontani dalle medie, si va appunto a creare una situazione che, per carità, non vuol dire che si vedrà un'inversione immediata. Però, insomma, nel lungo periodo diventa un po' complicato vedere continuare il movimento. Andiamo adesso ad analizzare il sentimento di mercato, perché forse per la prima volta da quando faccio questi video mi trovo d'accordo con la maggioranza, ovvero i venditori. Infatti, ora come ora, quello che vorrei fare è vendere. Attenzione, perché come al solito io faccio parte ancora di quella percentuale inesistente di persone che sono flat, quindi non sono a mercato. Questo perché, nonostante io voglia vendere, nonostante io abbia un target ben preciso, comunque abbastanza preciso, non posso entrare a mercato a caso e dire boh, adesso vendo, giusto perché quello che voglio fare è vendere. Non posso comportarmi così. Quello che devo fare, quello che voglio fare, è cercare un modo per essere coinvolta in una ipotetica discesa, trovare il modo di entrare a mercato. Quindi, una volta fatti i nostri piani, quello che poi dobbiamo fare, appunto, è trovare il modo di riuscire a seguire questo piano. Non possiamo improvvisare un'operazione così, come ci capita. Dobbiamo, appunto, trovare il modo di entrare a mercato. Quindi questa è una cosa che chiaramente non possiamo fare su un time frame settimanale, sia perché è troppo ampio, sia perché... Cioè, è impossibile. È veramente impossibile. Quello che faremo adesso sarà quindi scendere di time frame, ricordando che quello che vogliamo fare, o che io voglio fare anzi, è venire giù, e che però, vedendo i prezzi salire, potremmo anche pensare che ci sia prima bisogno di arrivare da queste parti, dove troveremmo poi una bella resistenza data dai massimi precedenti, possiamo vedere questa zona, questa zona, queste zone qua, e poi da lì trovare un pattern per venire giù. Quindi, attualmente, comunque, potrebbe benissimo essere che i prezzi continuino a salire. Quindi non è detto che soltanto perché c'è una situazione di disequilibrio adesso i prezzi diranno, ah, c'è disequilibrio, partiamo short. Assolutamente no. Può benissimo essere che si continui una salita, e che poi, soltanto terminata la salita per bene, trovata una struttura da cui partire, i prezzi allora invertano. Vediamo però sui time frame minori se per caso c'è qualche struttura che ci permetta di partire da questi time frame minori. E quindi spostiamoci sul grafico giornaliero. Ok. Qua sul giornaliero facciamo un piccolo zoom out e possiamo vedere che qua già troviamo qualche struttura a cui i prezzi arriverebbero prima di questa grandissima resistenza. Qui troviamo intanto questi massimi qua. Vediamo se riesco a stringerla. Ok. Troviamo appunto questa zona qua, data da questi massimi precedenti. Quindi già scendendo di time frame, riusciamo a guardare un po' più con la lente di ingrandimento e renderci conto che, ancora prima di questa struttura, potremmo trovare appunto questi massimi qua. Ora, questa non è una struttura che per forza di cose verrà rispettata, perché chiaramente è molto meno importante di questa qua. Si vede benissimo. Ciò nonostante ho notato che i prezzi spesso approfittano di queste strutture per fare dei ritracciamenti. E quindi appunto, non per forza qua i prezzi partiranno short fino a verso l'infinito e oltre, come diceva Basley Tear, ma semplicemente si potrebbe approfittare di una di queste zone per un piccolo ritracciamento che noi effettivamente, almeno per chi vuole vendere, si potrebbe pensare appunto di sfruttare questa zona per poi continuare su e nuovamente i venditori rientrare da queste parti e da lì cercare qualcosa di un po' più profondo. Quindi il daily ci sta dando qualche piccola soddisfazione. Vediamo adesso, Ichimoku cosa ci dice. Anche qui possiamo vedere che c'è grande disequilibrio perché vediamo una cumo molto lontana, vediamo delle linee molto lontane, quindi qua, invece che puntare al grande target della, cos'era, SSB? Sì, della SSB settimanale, si potrebbe cercare come target la Kijun Daily. Da lì, aspettare che i prezzi tornino nuovamente su e solo a quel punto cercare quello che è il nostro grande target settimanale o comunque, se invece questa zona verrà rotta, cercare nuovamente un modo per rientrare a mercato e venire giù fino appunto al target quello settimanale. Quindi qua direi che il daily è molto chiaro. Adesso andiamo a vedere il 4 ore, ok? Sul 4 ore non c'è niente di che, infatti rimpicciando il grafico ritroviamo le stesse strutture giornaliere, anzi la stessa struttura giornaliera, anche qui con Ichimoku sicuramente troviamo grande disequilibrio e infatti direi che è ben chiara la cosa. Infine, ognuno di noi dovrebbe poi spostarsi sul proprio time frame di operatività di entrata. Nel mio caso varia fra il 4 ore, l'orario, il 15 minuti a seconda di dove trovo i pattern. Per esempio, se io mi spostassi su un grafico orario, perfetto, qui vedo che i prezzi continuano a salire, qui si potrebbe aspettare un pattern, ricordandoci che siamo all'interno di una struttura, quindi un qualsiasi pattern, che può essere un canale, può essere la rottura dei minimi, un testa a spalle, un pattern armonico, approfittare dell'entrata di un pattern armonico per poi continuare eventualmente fino a quello che è il nostro target, insomma, chi più ne ha più ne metta, usare il time frame d'entrata per effettuare la nostra entrata. E questa è una cosa che è diversa da ognuno di noi, quindi una volta fatta un'analisi di lungo periodo, quindi io appunto ho fatto la mia analisi sul grafico settimanale, decido la mia entrata sul time frame che più preferisco. Chiaramente però poi cosa dovrò fare? Dovrò gestire l'operazione usando quel time frame là, perché chiaramente non è che posso effettuare la mia entrata sul grafico orario e gestire l'operazione sul day, non ha senso, così come non ha senso gestire l'operazione su time frame ancora più piccoli, perché avremmo dei falsi segnali rispetto al nostro time frame d'entrata. Quindi, ricapitolando, ora come ora mi trovo dalla parte della maggioranza, quindi sul gold vorrei uno short, che bella freccia. In questo momento io mi trovo flat, vedrò di entrare nel momento in cui si verificherà un pattern che seguirà i miei criteri d'entrata, il mio trading plan, la mia strategia, e cercherò di puntare piano piano a tutti i vari ostacoli che incontro nel mio percorso. Se i prezzi si fermeranno al primo ostacolo, accetterò benissimo quel primo ostacolo, quel primo target, e poi aspetterò che questi continuino a rialzo per poi eventualmente arrivare sulla grande struttura, vediamo se... Eccola qui, abbiamo detto essere questa qua settimanale, dove probabilmente molte più persone prenderebbero poi parte allo short. Quindi questo è il mio piano, questa è la mia visione, che appunto traderò seguendo quella che poi è la mia strategia. E così dovrebbe fare ognuno di voi, dovrebbe tradare un piano ben preciso, un'analisi ben precisa seguendo la propria strategia, i propri pattern d'entrata, e in generale tutti i piani che si hanno a seguire delle regole ben precise. Quindi questo è il gold, andiamo adesso a vedere sterlina-dollaro. Ok, su sterlina-dollaro seguiamo esattamente lo stesso procedimento, quindi questa invece è una coppia che io non guardo da veramente tanto tempo, sarà appunto... cioè, la riguardo in questo momento per la prima volta insieme a voi, quindi solita cosa, quello che vado a fare è studiarmi il trend di lungo periodo. Rimpiccioliamo il grafico, perfetto. Possiamo vedere che a livello di trend ci troviamo in un lungo trend ribassista con di tanto in tanto qualche grande correzione, infatti vediamo qui, e poi un proseguimento del ribasso, altre correzioni, eccetera, eccetera. Quindi quello che io vedo è un trend di lungo periodo ribassista. Attualmente cosa succede? Che i prezzi hanno appunto ripreso con la rottura, dopo la rottura di questo canale correttivo che si era creato, il ribasso, quindi abbiamo questo impulso, correzione, impulso e nuova correzione. Molto interessante vedere dove è arrivata questa correzione, infatti vediamo che qua abbiamo i massimi precedenti, quindi siamo su un livello molto carino. Quasi quasi raggiungerò la mia watch list. Quindi se traccio la zona, perfetto, anche qui è una zona di resistenza, possiamo vedere che si è creata una specie di canale, o meglio, in realtà qua i minimi hanno rotto quelli precedenti, quindi più che altro si è creato un doppio massimo, massimo numero 1 e massimo numero 2. Tac, tac, tac. Da qui chiaramente quello che vorrei fare è approfittare di questa zona di doppio massimo per cercare una repulsione appunto di questo livello e cercare il modo di venire giù. Quindi in pratica anche qui vado a schierarmi dalla parte della maggioranza, ovvero i venditori. Ricordo che però pur avendo un piano ben preciso non entro a mercato, ho bisogno di trovare il modo per entrare a mercato. Quindi prima di tutto abbiamo detto cosa voglio fare, quindi vorrei cercare uno short. Ora ci serve un target. Allora per farlo possiamo aiutarci per i fan di Chimoku proprio con i Chimoku. Infatti vedo che il primo ostacolo che troviamo è la Kijun. Quindi prendo una linea, mi vado a segnare qua la Kijun, magari la vado a fare in blu. Perfetto. Quindi qua ho segnato il mio primo ostacolo in questa discesa proprio perché mentre per tutto questo tempo i prezzi sono rimasti sotto, con questa correzione l'hanno rotta a rialzo. Quindi quello che io farò nel venire giù sarà puntare prima di tutto proprio a questo livello qua per poi vedere se si riuscirà a proseguire. Quindi ho una direzione, ho un target. Adesso si può scendere piano piano di time frame e andare a vedere che cosa si può fare. Allora, qui sul grafico giornaliero possiamo vedere che ci troviamo attualmente in un trend rialzista. Vediamo massimi e minimi crescenti chiaramente perché ricordo che quella che sul settimanale può essere una semplicissima correzione invece sul daily si trasforma in vero e proprio trend. Anche qui possiamo vedere la struttura all'interno della quale ci troviamo. Vediamo anche qua se Ichimoku ci dice qualcosa in più. Perfetto. Molto interessante vedere che la Kijun settimanale che ricordo essere questa è molto vicina alla Kumo con la SSB e anche alla Kijun daily quindi un'ottima confluenza di target zona dove appunto ci potrebbe poi essere eventualmente un arresto dello short ottima zona la tengo in considerazione. Andiamo adesso a vedere il grafico 4 ore perché io man mano mi avvicino al mio time frame d'entrata. Perfetto. E già qui noto un movimento interessante quindi possiamo vedere che c'è stato un bel trend rialzista poi i prezzi sono tornati nella zona minimi e hanno creato questo bellissimo supporto. Vi faccio vedere più nel dettaglio. Allarghiamo il grafico. Qui ne abbiamo detto trend rialzista così. Vabbè anche qua in realtà si poteva andare più nel dettaglio e vedere una roba di questo tipo. Si crea una zona di doppi massimi i prezzi tornano in zona minimi di supporto si viene a creare poi un altro doppio minimo i prezzi tornano nuovamente su in generale se proprio vogliamo tra virgolette esagerare possiamo vedere che si sta creando un testa a spalle spalla sinistra testa molto molto tonda e possibile spalla destra. Quindi avendo questa zona molto interessante adesso andiamo a tracciare magari un livello facciamo ok tracciamo questa zona qui facciamola in azzurro anche se sembra blu e vediamo di riuscire ok perché purtroppo c'è il magnete comunque bene o male la zona interessante è questa quindi già da qui si potrebbe valutare un ingresso ovvero si potrebbe approfittare della rottura del testa a spalle rottura ritest cercare un pattern direttamente un'entrata dopo la rottura e poi venire giù fino alla Kijun abbiamo detto settimanale che poi appunto molto vicina alle varie confluenze giornaliere vediamo soltanto ancora cosa si dice Cimoku qua perfetto possiamo vedere che qui vediamo la rottura della Kijun il ritest poi questa si sta alzando i prezzi si stanno lateralizzando con la rottura di questa zona il ritest troveremmo anche l'entrata dei prezzi all'interno della Kumo quindi diciamo che si varrebbero a creare più livelli tutti molto interessanti quindi anche qui togliamo i Cimoku direi che sono per lo short ma anche qui non è un'entrata immediata ma aspetto un pattern un pattern che potrebbe appunto arrivare proprio qui dal 4 ore con un testa spalle o con la semplice rottura di questo supporto ritesti insomma tutto quello che vogliamo oppure si potrebbe addirittura pensare di scendere di time frame per esempio sappiamo che questo testa spalle potrebbe essere appunto utilizzato per un'entrata volendo si potrebbe addirittura pensare di scendere su un time frame tipo il 5 minuti il 15 minuti e cercare un modo per entrare da queste parti e sfruttare questa distanza qua che sembra abbastanza ampia ma in realtà più si scende di time frame e più utilizzando anche il rischio di rendimento adeguato si riesce a tirare fuori un ottimo profitto da un movimento di questo tipo quindi anche qui su sterlina dollaro io mi trovo più con un'idea short attualmente non ha mercato quindi comunque continuo a far parte di questa nicchia di persone allì fuori da tutto perché non sono in posizione ultima ma non per importanza euro sterlina anche qui solita analisi che parte da settimanale questa io l'ho avuta in watch list ci ho anche fatto un bel trade che ha portato a un ottimo target questa settimana il trend in questo momento non è nulla di che è anzi molto brutto però pure qui si può sfruttare una zona molto importante che è stata appunto questo supporto qua ok quindi essendomi ho accorta che i prezzi si trovavano in questa zona molto brutta ma soprattutto a ridosso dei vecchi minimi che sono questi qua ho pensato di sfruttare questa zona proprio per cercare un ritracciamento scusate mi sto soffocando quindi sfrutto anche qui questa zona di supporto al contrario del gold e di sterlina dollaro qui invece che uno short voglio un long e anche qui mi trovo dalla parte della maggioranza praticamente però anche qui nuovamente tolto il fatto che il mio trade l'ho già fatto quindi ho fatto parte di questa barra verde ma ho già terminato il mio quindi nuovamente sono al di fuori anche qui ora come ora per rientrare devo trovare il modo di rientrare quindi abbiamo detto quello che vorrei fare vediamo con i cimoku vediamo se riusciamo ad inserirlo prima di tutto perfetto anche qui possiamo vedere che c'è una bella zona data proprio dalla kijun più la ssb più questa como piatta in generale questo i cimoku molto piatto che ci indica lateralità e infatti la possiamo ben vedere dai prezzi target ultimo molto interessante potrebbe proprio essere questa zona qui quindi mi vado a segnare una linea eccola perfetto ok andiamo adesso a scendere i time frame piano piano per vedere se ci sono più opportunità ok quindi qua sul grafico giornaliero possiamo vedere che questo impulso che c'è stato resta comunque ci troviamo ancora comunque in un trend ribassista proprio perché è vero che c'è stata questa correzione però se notiamo da questo canale siamo comunque ancora in un trend ribassista ora come ora si potrebbe per esempio pensare ad un ritracciamento e poi ad una nuova rottura dei massimi che piano piano ci porterà al nostro target vediamo se i cimoku ci dice qualcosa in più ok molto interessante vedere che troviamo anche qui un accumo ssb e kijun dalle parti della kijun e dell'accumo e dell'ssb settimanale quindi anche qua ottima confluenza di target direi che non poteva andare meglio andiamo adesso sul grafico 4 ore piano piano ci avviciniamo che cavolo ai nostri time frame d'entrata ok qui contrariamente al giornaliero e al settimanale invece è iniziato un trend rialzista perché vediamo impulso correzione impulso correzione impulso correzione e nuovo impulso quindi attualmente siamo in piena fase rialzista non con quest'ultima candela però anche qui quello che vorrei vedere è un ritracciamento per poi venire su e arrivare al mio target vediamo che cosa ci dice Ichimoku Ichimoku su questo time frame allora perfetto ottimo perché abbiamo detto vogliamo un ritracciamento quindi possiamo già vedere qua questa freccia che ho tracciato vediamo che da queste parti si trova la Kijun quindi è molto interessante pensare che i prezzi sono partiti sono entrati nella Kumo ora si potrebbe approfittare della Kumo per vedere da parte dei prezzi un rifiuto di questa zona tornare dalle parti della Kijun e da qui cercare di rientrare Long per continuare il movimento a rialzo fino al nostro target qui ci possono essere più diciamo scuole di pensiero chi semplicemente può andare ad inserire un ordine sulla Kijun quindi non appena questa zona verrà toccata arrivare a cioè entrare e arrivare a target per dire un ordine sulla Kijun con stop sui mini e target da queste parti sempre che ci sia rischiorimento uno ad uno perché forse siamo al pelo no forse c'è comunque siamo abbastanza al pelo oppure la seconda scuola di pensiero che è un po' più la mia quella di sapere bene voglio vedere un ritracciamento dei prezzi ma voglio essere molto precisa tant'è che quando i prezzi arriveranno da queste parti io non entrerò subito a mercato accontentandomi di questo movimento ma scenderò di time frame per andare a cercare un pattern che mi dia un rischio rendimento molto più piccolo rispetto a questi minimi quindi magari un che ne so uno stop da queste parti e il target da queste parti e quindi da lì cercare appunto di sfruttare il rischio rendimento per entrare a mercato e portare poi a casa in caso di profitto un profitto maggiore rispetto a quello che avrei sul time frame in 4 ore questo perché chiaramente più si scende di time frame più si ha modo di sfruttare i piccoli pattern che si formano più gli stop saranno piccoli più i rischi rendimento saranno grandi buoni e a nostro favore quindi questa è la mia visione su sterlina dollaro gold ed euro sterlina ora come ora non sono all'interno di nessuna delle tre su tutte e tre sto aspettando qualcosa qualcosa che potrebbe verificarsi oppure no in ogni caso sfrutterò i miei vari pattern e la mia strategia per cercare il modo di entrare come al solito questi non sono consigli operativi assolutamente perché ognuno di noi deve essere responsabile delle proprie azioni dei propri trade ma soprattutto ognuno di noi deve sapere esattamente quello che sta facendo che sta cercando e deve essere in grado di gestire il trade una volta eseguito quindi cercate come dicevo anche nel video scorso di non dipendere da nessuno createvi le vostre idee createvi i vostri trade le vostre opinioni studiate queste cose perché avere piena consapevolezza di ciò che sta succedendo pieno controllo di come mi comportero io a seconda dei vari eventi che si potrebbero verificare sui mercati è l'unico modo per crescere e migliorarsi e ovviamente perfezionare sempre di più la propria strategia io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti